Buongiorno e benvenuti alla lezione numero 3 in questa serie di lezioni preparative all'esame nazionale d'italiano. Il titolo è Riflessione sulla lingua parte 1. Oggi parleremo della seconda sezione dell'esame che è la riflessione sulla lingua. A questa sezione che abbiamo già detto in lezioni precedenti viene attribuito 16 punti, cioè il 40% del punteggio totale. In concreto nella sezione della riflessione sulla lingua ci sono quattro prove. Prova A, prova B, prova C e prova D. Oggi parleremo delle due prime, la terza e la quarta, la vedremo nella prossima lezione. Iniziamo con la prova A. In questa prova dovrete rispondere a otto items per gli indirizzi letterari e umanistici. Ogni item vale mezzo punto per un totale di quattro punti. E sette items per gli indirizzi scientifici e tecnici. Ogni item vale un punto per un totale di sette punti. La tecnica che si usa in questa prova è prevalentemente il completamento. L'istruzione è la seguente. Completa il testo o le frasi con la forma adeguata dei verbi tra parentesi. In questa prova ti chiediamo di mettere i verbi che sono tra parentesi nella forma adeguata. E cosa significa la forma adeguata dei verbi? Cioè ti chiediamo di coniugare i verbi tra parentesi nel modo e il tempo adeguato e alla persona corretta. Concretamente in questa prova ti chiediamo di coniugare i verbi che sono tra parentesi in uno dei modi e tempi seguenti. Allora, i modi indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo. I tempi, indicativo presente, passato, prossimo, imperfetto, futuro, eccetera. Congiuntivo presente, passato, imperfetto, condizionale, presente, passato. Sono elementi che hai studiato durante i tre anni di liceo. Vediamo un esempio. Allora, completa il testo con la forma adeguata dei verbi tra parentesi. Mi sembra che qui la gente vivere bene e che sopportare meglio il traffico. Come vedete ci sono due verbi all'infinito, tra parentesi. Li dovete coniugare al tempo e alla persona adeguata e dovete scrivere la risposta nello spazio a sinistra. Proviamo a farlo insieme. La risposta è, mi sembra che qui la gente viva bene e che sopporti meglio il traffico. Come abbiamo fatto per trovare la risposta giusta? La persona è chiara, no? Si dice nella frase è la gente, quindi la terza persona singolare, ok? Osservare adesso, osservate adesso attentamente la frase. Che cosa esprime questa parte della frase? Mi sembra esprime opinione. Bravi! Avete notato che questo verbo esprime opinione e normalmente introduce il modo congiuntivo. Vi ricordate la regola, no? Mi sembra che più congiuntivo presente. Così arriviamo alla risposta, mi sembra che qui la gente viva bene e che sopporti meglio il traffico. Ora vediamo un altro esempio. Allora, prima di rispondere, leggere attentamente. Ieri in piazza, vedere noi un uomo che vendere palloncini colorati. Avete notato la parola ieri che indica il tempo passato, quindi i due verbi devono essere coniugati al passato, però quale è passato? Il passato prossimo o l'imperfetto? In questa frase abbiamo due azioni. Quali sono? Bravi! Abbiamo vedere un uomo e vendere palloncini. Vedere un uomo, in questa frase, questa frase è un avvenimento, è un fatto. Vi ricordate? Il fatto al passato, si coniuga al passato prossimo. La seconda azione è una situazione e si coniuga all'imperfetto. Quindi facciamo la correzione insieme. Ieri in piazza noi abbiamo visto un uomo che vendeva palloncini colorati. Vediamo un altro esempio. Se domani la temperatura aumentare, passare io tutta la giornata in riva al mare. Cosa notate in questa frase? Prima il marcatore temporale. Domani che indica il futuro. Cosa altro? Abbiamo se, la congiunzione se, che è una congiunzione che si usa per formare un periodo ipotetico. Vi ricordate la regola dei periodi ipotetici? Abbiamo tre periodi, li ricordiamo insieme? Periodo della realtà, se più presente o futuro, più presente o futuro. Periodo della possibilità, se più congiuntivo, imperfetto, più condizionale, semplice o presente. Periodo dell'irrealtà, se più congiuntivo, trapassato, più condizionale, passato. In questa frase abbiamo un periodo della realtà. Proviamo ora a mettere i due verbi alla forma adeguata. Abbiamo la persona per il secondo verbo, già data. E abbiamo, è la persona in cui dobbiamo coniugare la prima, il primo verbo è la temperatura, quindi terza persona singolare. Facciamo la correzione. Sì, se domani la temperatura aumenterà, passerò tutta la giornata in riva al mare. Come abbiamo visto nelle frasi che vi diamo, ci sono sempre elementi che ti indicano il modo e il tempo corretto in cui devi coniugare i verbi. Ci sono, per esempio, i marcatori temporali, le congiunzioni e i verbi introduttivi. La persona in cui dovete coniugare i verbi, quando la persona in cui dovete coniugare il verbo non è evidente o chiara, viene indicata accanto al verbo, come abbiamo visto nell'esempio precedente. Ora parliamo un po' della prova B. In questa prova dovrete rispondere a 8 items per gli indirizzi letterari, gli umanistici. Ogni item vale mezzo punto per un totale di 4 punti. E 5 items per indirizzi scientifici e tecnici. Ogni item vale mezzo punto per un totale di 2,5 punti. Cosa si verifica esattamente in questa prova? Se nella prova A si controllano i verbi, la prova B invece verifica tutti gli altri elementi linguistici grammaticali che avete studiato durante tre anni di liceo. Soprattutto gli articoli, preposizioni, preposizioni più articoli, pronomi, possessivi, dimostrativi, connittivi, eccetera. La tecnica che si usa in questa prova è la scelta multipla. L'istruzione è la seguente. Scegli la forma corretta fra quelle proposte. In questa prova ti diamo un testo o delle frasi e ti chiediamo di scegliere le parole che lo completano fra quelle proposte. Osserviamo questo esempio. Scegliere la forma corretta fra quelle proposte. Fausto Coppi era un campione del ciclismo italiano degli dei del anni 40 e 50. Come vedete si propongono tre parole per completare la frase. Delli dei e del. Di queste tre parole, solo una è corretta. Allora, qual è la forma giusta? E? Delli, bravi. Potete allora rispondere cancellando quelle sbagliate con un trattino. O con una x. Oppure potete sottolineare la forma corretta. Ok? Come siamo arrivati a trovare la risposta giusta? In questa frase dobbiamo scegliere la preposizione articolata corretta. In questa situazione bisogna fare attenzione alla parola che viene dopo. E trovare quale articolo prende di solito. Qui la parola è anni. È un sostantivo maschile plurale che inizia con una vocale. E logicamente prende l'articolo gli anni. Ok? E quindi la risposta giusta è Delli, come sapete, che è di più articolo gli. Allora, quando bisogna scegliere articoli o preposizioni più articolate, preposizioni più articolo, si fa attenzione alla parola che segue. Continuiamo con il nostro testo. Corretto, era bravo, vinceva continuamente molte gare, però infatti allora la lista delle sue vittorie era lunga. Qui dunque bisogna trovare il connettivo corretto. Come si fa? Abbiamo tre connettivi, però un avversativo, infatti un dichiarativo o esplicativo, introduce una spiegazione, allora un conclusivo introduce una conclusione. Un connettivo normalmente è una parola che collega due frasi. Bisogna individuare le due frasi e capire il rapporto logico che esiste tra queste due frasi. Allora, osserviamo le due frasi. Vinceva continuamente molte gare, la lista delle sue vittorie era lunga. Avete notato il punto virgola. Le due frasi dicono praticamente la stessa cosa in diverse parole. La seconda frase spiega la prima, quindi il connettivo corretto è infatti. Anche per il seguente item dobbiamo scegliere il connettivo adeguato. Leggiamo la frase, la lista delle sue vittorie era lunga, visto che mentre perciò i tifosi lo chiamavano il campionissimo. Dobbiamo scegliere il connettivo adeguato fra tre proposti, un causale, visto che, un temporale, mentre, un conclusivo, perciò. Qual è il rapporto logico che c'è tra le due frasi? La lista delle sue vittorie era lunga e i tifosi lo chiamavano il campionissimo. Il rapporto, il e, conclusivo, quindi il connettivo corretto è perciò. Vediamo ancora un altro esempio. Il suo rivale era un altro ciclista popolare, Gino Bartali. Bartali e Coppi erano forti. Le sue loro, nostre sfide al Tour de France e al Giro d'Italia appassionavano tanti italiani. Quindi qui si deve scegliere il possessivo corretto, bisogna rispondere alla domanda di chi è. Facciamo attenzione all'articolo che c'è prima, le, che indica plurale femminile, e poi proviamo a rispondere alla domanda di chi, le sfide di chi. Ovviamente la risposta è di Bartali e Coppi, quindi di loro. Allora il possessivo corretto è loro. Ricapituliamo quello che abbiamo detto in questa lezione. Allora, prima di rispondere alle domande dovete leggere l'istruzione attentamente. Leggere bene e capire il testo o la frase da completare. Identificare il soggetto della frase. Fare attenzione al marcatore di tempo utilizzato, si indica il presente, il passato o il futuro. Tener conto delle congiunzioni, perché ci sono congiunzioni, per esempio, che introducono il modo congiuntivo. Stare attenti ai verbi o espressioni che introducono il congiuntivo. Mi sembra che, credo che, eccetera. Se si tratta di completare con i connettivi, bisogna individuare le due frasi, perché un connettivo collega due frasi. Capire il senso per poter sapere esattamente qual è il rapporto logico che esiste tra le due frasi. Quindi, identificare l'apporto logico tra le due frasi, se è conclusivo, se è causale o temporale, eccetera, o avversativo, eccetera. Se si tratta di completare con gli articoli o le preposizioni più articoli, analizzare la parola che segue. Provare il suo genere, il numero, se inizia con vocale o consonante. Se si tratta di completare con possissivi, provare a rispondere alla domanda di chi è. E fare attenzione all'articolo che precede il possissivo, perché spesso con l'articolo possiamo sapere il genere, il numero del possissivo che dobbiamo scegliere. Con questi consigli concludiamo la lezione di oggi. Nella prossima lezione vedremo le prove C e D della riflessione sulla lingua. Bocca al lupo!